Vista l'attuale fase di emergenza epidemica che vede un aumento progressivo del fabbisogno di ricoveri all'ospedale San Donato e la contestuale necessità di garantire una gestione fluida della dimissione di pazienti, da domani all'interno dell'ospedale del Casentino saranno attivati alcuni posti letto di cure intermedie Covid. Inizialmente saranno mesi a disposizione 10 letti, eventualmente ampliabili progressivamente, fino ad un massimo di 20. L'apertura dei letti di cure intermedie Covid non determinerà però la chiusura di nessuna attività ospedaliera, ma soltanto una diversa allocazione dei posti letto di degenza per permettere l'organizzazione di un reparto con percorsi totalmente indipendenti dal resto dell'ospedale. Una decisione questa che però ha fatto storcere il naso ai sindaci del territorio, come spiega lo stesso primo cittadino di Bibbiena, Filippo Vagnoli, in qualità di presidente dell'articolazione zonale. Abbiamo appreso la notizia dai dottori Varisto Giglio e Barbara Innocenti, rispettivamente il direttore del distretto aretino e direttore degli ospedali riuniti. Ovviamente non siamo pienamente d'accordo poiché in due anni di pandemia potevano essere trovate soluzioni diverse, come esempio una struttura appositamente dedicata al Covid fuori dagli ospedali stessi. Ciò nonostante, nel rispetto del ruolo che ricopriamo e per senso estremo di responsabilità anche alla luce dei nuovi numeri della pandemia nella nostra provincia, e considerato il fatto che nella Fratta e nel Rezzo riescono più a far fronte alle emergenze, prendiamo atto della cosa e accogliamo la decisione. Ovviamente, conclude Vagnoli, come i primi cittadini vigileremo in modo attento e puntuale sul funzionamento dei servizi ospedalieri cosiddetti ordinari, sul fatto che una volta conclusa l'emergenza i posti letto ritornino nel nosocomio di Vallata e sul rispetto di tutti i malati sarà fatta una vigilanza puntuale sulla funzionalità degli altri servizi, al fine di consentire anche ai malati non Covid di avere cure adeguate e servizi funzionanti.